Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube, se siete qui è perché in qualche modo siete interessati al trading e siete davanti a me, io sono Pier Giorgio Mariani e sono un Popular Investor Champions di Etoro, come potete vedere qua e mi occupo appunto di trading. Non sono un trader professionista, non faccio questo per mestiere e non vivo di trading questo ci tengo a precisarlo perché vivere di trading è qualcosa di estremamente complicato è qualcosa di estremamente rischioso e richiedono soprattutto avere alle spalle dei capitali notevoli perché dovete considerare una cosa, per vivere di trading dovete pensare a come procurarvi uno stipendio fisso, minimo tutti i mesi che vi permetta di quantomeno potervi sostentare nelle vostre cose, quindi nella vostra vita normale quindi non lo so, nella spesa, la famiglia, i figli, le vacanze e quant'altro quindi quello di cui vi parlo io non è vivere di trading, poi se siete bravi e ovviamente azzeccate quasi tutti i trade della vostra vita ben venga e buon per voi, per carità però parliamo un attimino di per quale motivo dovreste copiare me, un Popular Investor, su Etoro innanzitutto perché io faccio trading da ormai decine di anni e quindi ho una certa esperienza poi chi segue il mio canale potete vedere le mie analisi tecniche, potete vedere i miei piccoli video tutorial dove vi spiego come funzionano alcune cose, alcuni meccanismi, alcune statistiche, alcune strategie quindi per questo motivo chi vuole approcciare il mondo del trading senza perdere soldi perché dovete sapere che circa il 75-80% degli investitori in CFD perde il loro capitale quindi è molto molto rischioso quindi innanzitutto un Popular Investor cosa fa? allora mette a disposizione la propria esperienza, le proprie strategie di tutti gli altri è un social trader, ok? quindi in qualche modo io costruisco il mio portafoglio e voi copiate il mio portafoglio, quindi con, che ne so, magari io investo, ipotizzo, 1000€ per costruire il mio portafoglio e voi decidete di copiare me con 500€ in automatico Etoro vi apre tutte le posizioni che io ho nel portafoglio e ve le porta sul vostro, quindi tutto questo è estremamente interessante inoltre perché copiare me? innanzitutto su Etoro mi trovate nei link qui sotto quindi trovate il link di iscrizione da Etoro se non siete iscritti trovate il link alla mia pagina dove potete vedere le mie statistiche su due anni, in due anni circa 24-26 mesi su Etoro ho realizzato circa un 47,5% di profitti su posizioni chiuse non guardate le posizioni aperte, perché le posizioni aperte fino a che non le chiudete rimangono virtuali, nel senso che guadagni o perdite sono puramente dei numeri e quindi non ve li potete mettere in tasca le posizioni chiuse, sì, perché poi è su quello che andremo a pagare anche le tasse quindi molto, molto attenziale e quindi, perché copiare un popular investor come me? innanzitutto perché ho un portafoglio bilanciato perché a me piace investire in Apple, in Facebook, in Google, in Cisco ma non basta, perché non sono queste le aziende che ci danno il valore aggiunto sono tante altre aziende soprattutto aziende del settore magari più bistrattato in un certo periodo oppure aziende di un altro settore oppure le aziende italiane perché non Stellantis, Leonardo oppure, non so, Unicredit o tante altre ci sono tante, tante opportunità e poi non dimentichiamo che in un portafoglio bilanciato come mio potete trovare tante materie prime troverete il gas naturale troverete il petrolio troverete l'oro troverete il palladio oppure il grano perché no? e quindi bisognerà fare molta molta attenzione a poter costruire un portafoglio bilanciato come ho fatto io dove nel portafoglio bilanciato non mancano nemmeno le criptovalute perché Bitcoin, Ethereum o Stellar oppure, non lo so, P-Network possono far parte del vostro portafoglio in maniera molto discreta perché ricordate io per bilanciare le mie strategie ma soprattutto per evitare tanta volatilità nel mio portafoglio ma soprattutto nei mercati non investo mai più del 5% del mio capitale nelle criptovalute che comunque è già tanto perché quando le criptovalute vanno in volatilità vedete che si muovono velocemente ma soprattutto si muovono in maniera enorme più 20, meno 20, più 10, meno 15 bisogna fare molta attenzione quindi il motivo per cui conviene investire in un popular investor champion come me è proprio perché io ho un portafoglio bilanciato e quindi le mie perdite quando ci sono sono sempre limitate e inoltre io ho un motto diciamo mio che è non solo quello che conoscete chi già mi segue che è stay tuned and figure crossed ma soprattutto io non lascio mai i miei soldi al mercato le perdite fanno parte del trading ma le perdite devono tornare in tasca a me non possono restare nel mercato perché io quei soldi me li sono sudati e quindi come tale io lotto, combatto e studio affinché quei soldi tornino nelle mie tasche e questo ve lo posso assicurare bene questa presentazione quindi è quello che io faccio come vi ripeto non sono un trader professionista sono un padre di famiglia ho anche dei bambini eccetera eccetera quindi faccio questo per passione e lo faccio in maniera abbastanza seria anzi no abbastanza seria la faccio in maniera molto seria perché io rispondo sempre a tutte le domande cerco di aiutare tutti quelli che mi seguono sui canali telegram sul canale youtube ovunque mi seguite sui miei social e quindi questo è proprio perché io mi ritengo una persona seria e affidabile quindi vi aspetto trovate i link per l'iscrizione oppure se siete già iscritti trovate il link al mio profilo proprio qui sotto andate a guardarvi le statistiche se avete dubbi o commenti chiedete sempre mi raccomando io rispondo a tutti quindi ci vediamo nei prossimi giorni oppure quando volete voi stay tuned e finger crossed questa volta ciao a tutti buon trading grazie a tutti